Presentata l'undicesima edizione di Pordenone Pensa, festival di attualità e cultura organizzato dal Circolo Eureka con il sostegno di comune, regione e sponsor privati. In programma 10 appuntamenti con 15 grandi ospiti, tra questi i giornalisti Nicola Porro e Luca Telese, il giudice Carlo Nordio, lo storico Giordano Bruno Guerri. Anteprima a Spilimbergo il 31 maggio con Marcello Veneziani, mentre gli altri incontri si terranno a Pordenone. Questa undicesima edizione di Pordenone Pensa si terrà dal 3 all'8 giugno, tutti gli incontri saranno ad ingresso gratuito e si terrà alla biblioteca civica di Pordenone. Si partirà da posizioni diverse per parlare di economia, di attualità, di storia e di cultura, di molto altro ancora. Filo conduttore della rassegna è il confronto tra idee e relatori di diversa estrazione. Pordenone Pensa è un format originale, l'ha sottolineato lei sindaco. È assolutamente, è un format che si inserisce all'interno di un cartellone vastissimo di iniziative e di rassegne culturali che caratterizzano Pordenone. In questo caso è il confronto che è il sale della vita direi, soprattutto in un'epoca di informazioni fallaci, superficiali, penso soprattutto ai social media, è indispensabile confrontarsi con persone autorevoli per sapere di più in materia di giustizia, di cambiamenti climatici, di scienza, di storia. A sottolineare il valore aggiunto di Pordenone Pensa come festival del confronto sono stati anche gli assessori regionale e comunale alla cultura. Credo che per le nuove generazioni sia veramente utile perché si ha difficoltà ormai a cercare di ragionare tenendo conto di più punti di vista. Una manifestazione che assieme alle altre manifestazioni di Pordenone, Pordenone Legge, il Festival del Cinema Muto, non fa altro che dare di Pordenone un'immagine di una città con un alto livello culturale, ben più alto di tante città forse più blasonate anche in regione.